Fa caldo, nella città mia fa caldo, con lei che balla caldo, tanto quanto un forno caldo è caldo, ma me la canto è caldo, come il tuo impianto caldo, nella città mia fa caldo, caldo. Esco di casa, una inoltrata, è già nell'aria qualcosa di un po' diverso, non è più inverno, non è più freddo, l'aria è più affosa, una rondine su di me vola una vecchietta lontana. Un cordiale saluto per gli amici di Apanghino Frisco, dal vostro Pino Carlo Magno, oggi è ospite della Panghina qui a Lauria, è Mauro Mortoro. Questo nome, grazie di aver accettato l'invito, sarà sicuramente nella mente di molti laureoti perché Mauro ha dei trascorsi nella nostra cittadina. Ce lo vuoi dire te, Mauro? Sì, grazie per l'invito a questa trasmissione. Diciamo che il mio trascorso a Lauria è perché sono sposato con una donna di Lauria, Silvia Martino. Quindi ho vissuto qua per cinque anni e mi sono trovato abbastanza bene. Poi ho anche giocato con il Lauria e con il Cogliandrino, quindi mi ero integrato abbastanza bene col tessuto sociale di Lauria. Senti Mauro, che ricordi hai di quegli anni di giocatore del Lauria e del Cogliandrino? Allora, i ricordi con il Lauria ho giocato pochi mesi perché poi ci sono stati dei problemi societari, insomma. Mentre col Cogliandrino ho disputato un campionato d'eccellenza con molti ragazzi del territorio, quindi una bella esperienza sicuramente. Senti, e adesso giochi così a tempo perso perché la tua vera attività qual è? Allora, di giocare purtroppo ho dovuto smettere perché qualche anno fa ho subito un intervento, quindi non posso giocare con frequenza. Ogni tanto faccio una partita di calcetto. La mia attività prevalente è una società che si chiama Globalcom e praticamente vendiamo ADSL. ADSL, abbiamo una rete proprietaria e attraverso Pondiradi distribuiamo il segnale dati nelle zone inizialmente non servite dai principali operatori nazionali. Quindi abbiamo superato l'anti-digital divide che c'era sul territorio. Adesso invece siamo presenti anche nei paesi come Lauria, Lago Negro, dove sono presenti i grandi operatori e questa è l'attività principale. Senti, da quanto tempo esiste la Globalcom? Va bene? Sì, ho dei problemi, onestamente, parlando. Allora, la Globalcom c'è dal 2007 come attività di internet. La società va bene, ha avuto una crescita progressiva negli anni, infatti diciamo che principalmente era basata sul passaparola, perché abbiamo preferito puntare su una crescita progressiva, onde evitare di sbagliare. E diciamo che c'è stata una crescita importante con un miglioramento continuo del servizio, delle aree coperte. Infatti siamo presenti sia in Basilicata che in Calabria e in Campania. Offriamo il servizio anche a molte strutture private, alberghi, comuni. Vanno bene le cose? Va bene, va bene. Non c'è problema di restare a spasso, insomma. Il lavoro c'è, perché adesso tutti andiamo trovando, cercando le parabole, stai DSL, sti contatti, sti collegamenti. Sì, questo è un vantaggio, perché con l'avvento di Facebook è la cosa importante oggi, è la linea dati, per cui senza non si può fare almeno, è diventato più importante del mangiare. E quindi questa cosa qua, però c'è da dire che il lavoro c'è, ma va coltivato, perché bisogna sempre aggiornarsi, bisogna sempre offrire un servizio di qualità, potenziare le linee, migliorare le infrastrutture per dare un servizio migliore, ridurre gli errori per cui tenere i clienti sempre... e poi abbiamo trovato una formula, diciamo, unica nel mercato, perché noi diamo un servizio prepagato, per cui qualsiasi cittadino usufruisce del nostro servizio, può anche decidere di sospendere per un periodo e quindi non perde i soldi, insomma. Mentre con gli altri operatori uno paga il canone, è normale. Mentre il nostro servizio è una ricarica di 30 giorni e ogni cittadino fa il versamento e usufruisce dei 30 giorni della linea dati, per cui... Se uno volesse adesso usufruire di questa tua azienda, di questa tua società, a chi bisogna rivolgersi? A noi. Ascoltano questi intervisti, dicono, oh madonna, quasi quasi condatto alla Global.com, che deve fare? Che deve fare? Può consultare il sito www.globalconbasilicata.it oppure telefonare allo 0973 21 008, per avere le informazioni necessarie per poter poi usufruire del servizio. In realtà si monta una parabolina, tramite un cavo viene portato il segnale all'interno dell'abitazione. È una cosa molto semplice, diciamo, installabile in qualsiasi punto, quindi non ci sono particolari difficoltà. Senti, nella mente di noi poveri mortali, che non abbiamo tutte queste cose, una parte di queste cose, quando uno sente, ah, questo, global.com, tutte le... Chissà a casa sua avrà un imbiando, è una cosa che prende anche i collegamenti col paradiso, voglio dire. Cioè, c'è un casatore, ti mantieni o ricorri alle novità, poi non paghi niente. No, praticamente è una linea, pure io, una linea global.com a casa, per cui usufruisco del servizio, è anche un modo per testare, per vedere se ci sono problemi, perché, diciamoci la verità, affrontando un territorio non propriamente abituato a questo tipo di servizio, a volte si va incontro pure a delle difficoltà, il computer lento, pieno di virus, e quindi ti chiamano perché la linea può risultare lenta, magari poi il test, fanno un test mentre scaricano, cioè, e quindi è pure un modo per misurare, però a casa, diciamo, una linea normale, con un computer normale. Anche perché se ci succede una cosa a te, io ti posso dire, a cui chiamo mo', a te ti chiami te stesso, ti chiami se qualcosa non va, no? No, no, chiami a me i tecnici pronti ad intervenire per risolvere il problema, quindi... Sei assicurato, sei coperto. Sì, sì, siamo assicurati, sì, abbiamo i tecnici convenzionati che sono disponibili, per cui, diciamo, il distervizio può durare massimo mezza giornata, una giornata, il tempo di mandare la squadra tecnica a risolvere il problema. Ecco, Mauro, tu parlavi molto bene del territorio, il nostro territorio è un po' problematico per quanto riguarda queste cose sofisticate, quando, per esempio, io frequento molto Facebook, no? E vedo la condizione lenta, questi problemi, mi dà una cosa e me la prendo e non è che sfoglio il calendario, ma, insomma, a volte te scappa la parola poco ortodossa, voglio dire, è un territorio difficile, come avete fatto voi per cercare di riparare al tutto? Allora, intanto non è una linea global com, se ti va lenta, quindi... Ma la posso vogliare con voi. Non te la puoi prendere con me. Il territorio è complicatissimo, perché, come ben sai, sono montagne, noi lavoriamo con dei ponti radio, quindi per coprire bene un paese dobbiamo puntare molto bene le località dove puoi mettere le antenne per poter servire il maggior numero di clienti possibili, quindi... Però, ecco, il territorio è complicatissimo. In un'area pianeggiante con un'antenna puoi servire tantissime utenze. Da noi, magari, bisogna avere più postazioni, già la stessa laurea, tra le contrade, Pizzino, Melaro, Caldo, insomma, la Rosa, sì. Vanno posizionate postazioni in luoghi diversi per poter dare un servizio migliore, altrimenti non è proprio fruibile il servizio. Ho capito. Mauro, quando tu non lavori e non sei impegnato con parabole e cose di questo genere, come si svolge la tua vita? La mia vita? Io frequento la palestra, faccio un po' di attività fitness, poi ho una scuola calcio, quindi alleno i ragazzini. La passione non ti è passata, insomma? La passione no, quindi abbiamo continuato cercando di trasmettere valori e un po' di conoscenze che abbiamo acquisito in questi anni, quindi sempre nell'ambito del calcio. Poi ho tre figli e quindi ti lascio immaginare il lavoro che c'è. E quindi tempo personale ho lo spacco dall'una alle tre e quindi faccio un po' di attività fisica. Poi per il resto lavoro e famiglia, insomma, è sempre... Si assorbono. Si assorbono, tu ci sei tutto. Ho capito. Ecco, è una cosa bella la scuola calcio che tu gestisci, anche perché nelle nostre comunità, nei nostri paesi, insomma, non è che ci siano tante cose. Vedi, noi stiamo registrando questa puntata, manca mezz'ora a mezzogiorno, non c'è moltissima gente, molti sono a mare, molti ancora lavorano. Cioè, delle comunità grandi però non sempre affollate, soprattutto d'estate, un po' dormienti. Benvengano queste iniziative come la scuola calcio o altre cose, no? Sì, sì, no. Queste cose sono sicuramente momenti di aggregazione per i ragazzi e punto di riferimento per le famiglie, perché ovviamente non... diciamo, mentre una volta si giocava di più nei quartieri c'era un modo di vivere il paese in modo diverso. Adesso c'è bisogno di strutture organizzate. Il problema nelle nostre realtà però sono proprio le strutture fisiche che mancano. per cui... Insomma, fare un po' i salti mortali per poter seguire questi ragazzi in modo adeguato. Però, diciamo, ce la mettiamo tutta nel limite del possibile. E i risultati pure ci sono, insomma, perché numericamente i ragazzi rispondono, partecipano a campionati. C'è una bella risposta della gente. Eh sì, più che altro vedere poi i ragazzini soddisfatti, che è la cosa più bella. Poi pure quando ti incontrano ti chiedono sempre quando si rinizia, quando... C'è l'entusiasmo. C'è l'entusiasmo e quindi ci sono poi attestati di stima che poi fa sempre piacere. Ah, sta, ti faccio un gioco. Siamo in diretta. Ecco, questo è quello che stiamo registrando. No, lasciate, lei non la cancellate. Proprio a dimostrazione che... Dimostrazione che... E tutta la panchina succede. Senti, Mauro, un'ultima cosa. La scuola calci. Io seguivo un servizio a un telegiornale, il telegiornale nazionale, mesi fa. Questi genitori, alcuni genitori, se la presero durante una partitella di allenamento dei ragazzini, incominciarono a essere poco belli e simbatici verso l'arbitro, verso l'allenatore, non che il loro preparatore della scuola calcio. Sono un po' affanatici alcuni genitori, anche, non lo so, al Lago Negro. O lasciano, ve li affidano e va a vedere voi. Diciamo che questa cosa cerco di stopparla sul nascere. Intanto perché non puntiamo alla vittoria. Per cui, diciamo, è per i genitori accanito, insomma, già un punto che tende a frenare. Noi diamo spazio a tutti. Ovviamente cerchiamo di fare la cosa nel miglior modo possibile e di ottenere un risultato. Ma sempre nel rispetto di tutti i ragazzini e di tutti i componenti della squadra. Quindi i genitori, diciamo, li teniamo un po' a margine dal discorso vittoria, agonismo. Sì, sono quei valori. Perché altrimenti se si punta su... ecco, giocano solo i bravini, gli altri fanno da contorno. E poi, tra l'altro, anche i ragazzini. Diciamo, io personalmente, come obiettivo, quello del gioco. Pure perché sostengo che a calcio, diciamo, ci si diverte giocando col pallone. Quindi se lo tieni, tu ti diverte. Se lo tieni con l'avversario, devi correre e non ti diverti, insomma. Se divertono loro. E quindi cerchiamo sempre di puntare più sul divertimento e quindi sul gioco. E poi il risultato, ovviamente, se viene tanto di guadagnato. Ma diversamente ci può lasciare... ci lascia soddisfatti anche una bella prestazione. Quindi pur senza gol e senza risultato vittoria finale, insomma. Quindi, diciamo, il genitore in questo caso viene stoppato subito. Fate bene, secondo me, mi ha modesto avviso. Poi li teniamo fuori dal recinto di gioco, insomma. Non li coinvolgiamo. Perché nel momento in cui lo coinvolge, poi si sente autorizzato a dire giustamente la propria opinione. Per cui nel momento in cui non viene coinvolto, non ci interessa neanche la propria opinione del genitore. Senti, Mauro, l'ultimissima domanda. Che augurio fai ai tuoi concittadini di Lago Negro, a Lauria, cioè a quelli che stanno seguendo questa nostra intervista stamattina? Che state auguri a loro? Allora, intanto vorrei augurare appunto il bene possibile, insomma. Perché il nostro territorio, come dicevamo prima, già è complicato di suo. Però ecco, l'augurio che faccio è, o meglio, diciamo un suggerimento che vorrei dare. È offrire, offrire servizi, offrire affinché le persone che vengano possano veicolare un messaggio positivo all'esterno. Perché nelle nostre realtà, purtroppo, ragioniamo un po' inversamente. Cioè, vogliamo le persone per poter offrire. E in realtà non è così. Una persona deve poter beneficiare del meglio, anche se una sola. Poi dopo lo dirà un altro, quindi si avrà la prospettiva, insomma, migliore. Cosa che invece, noi anche lo vediamo con il nostro lavoro, purtroppo, si arriva sempre tardi nella richiesta del servizio. Infatti teniamo zone marine che ancora ci chiedono di attivare le linee, ma siamo già a metà luglio. Fra un po' è finita l'estate. Cioè, per dire come pensiamo noi sul nostro territorio. Perché essendo in poker pensiamo di non rientrare. Però bisogna un po' invertire il senso di marcia, offrire qualità e l'augurio che faccio è questo. Che ci sia un'inversione di tendenze, insomma, sul territorio. Bene. Grazie Mauro. A questo punto auguri di una buona e serena estate anche a te e naturalmente alla tua famiglia e alla Global.com. Sempre più in alto allora, eh? Eh, speriamo. Grazie mille per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno. Grazie, grazie a voi e un saluto anche da Pino Carlo Magno per lucaniatv.it Fa caldo, nella città mia fa caldo, con lei che balla caldo, tanto quanto un forno caldo è caldo, ma me la canto è caldo, come il tuo impianto caldo, nella città mia fa caldo, caldo. Esco di casa una inoltre... Grazie. Grazie.